Libera Università di Bolzano. Dall'anno accademico 2015-2016, Massimiliano Bonacchi è professor ordinario alla Facoltà di Economia della Libera Università, dove insegna nel corso di laurea in Economia e Management e nel dottorato di Cerca in Management and Economics on Organizational and Institutional Outliers. Il ruolo della contabilità nella società moderna, questo è il titolo scelto per la sua lezione inaugurale. Nella mia lezione inaugurale parlerò di come l'accounting si è evoluto nel tempo e come può essere utile per creare vantaggio competitivo nelle imprese. Accounting è informazione, informazione su che cosa? Sulla realtà dell'impresa, quindi io creerò dei rapporti che mi servono per capire la realtà dell'impresa e per prendere delle decisioni. Se i rapporti sono buoni, le decisioni saranno razionali e creerò valori. Qual è la cosa importante da capire? Che se la realtà cambia o il valore che io voglio creare cambia, io devo adattare i miei reports. E questo è il grosso sforzo che chi studia accounting deve fare. Deve capire come adattare i rapporti alla realtà e deve capire per chi l'impresa deve creare valore. Gli interessi di ricerca del professor Bonacchi si concentrano sulla comunicazione finanziaria volontaria, sull'analisi di bilancio, sulla contabilità manageriale, sul valore dei clienti nelle imprese che offrono servizi in abbonamento e sulle responsabilità sociali dell'azienda. Il mio ambito di ricerca è l'accounting in generale, in particolare financial accounting e managerial accounting. Ho preso il mio dottorato a Firenze, sono restato in Italia per sei anni e poi ho iniziato a migrare negli Stati Uniti facendo un semestre in Italia e un semestre negli Stati Uniti. È stato bello, ma poi mi è venuta voglia di tornare in Italia senza perdere i contatti internazionali e senza perdere la voglia di partecipare al dibattito internazionale. E questo è quello che Bolzano mi offriva, mi offriva di poter usufruire della qualità della vita italiana e allo stesso tempo avere accesso a un network di colleghi e di risorse internazionali che per ora mi sta dando molta soddisfazione. In precedenza Bonacchi è stato professore associato all'Università Partenope di Napoli e ricercatore all'Università di Firenze. Dal 2012 al 2016 è stato visiting professor alla New York University Stern School of Business e dal 2009 al 2012 visiting professor al Baruch College della City University of New York.